buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione il piacere di avere in studio il presidente di lungarone fiere dolomiti gian angelo bellati che saluto e ringrazio per la disponibilità saluto anche da parte mia naturalmente è una moto d'affetto nei confronti di una struttura molto importante che genera molto denaro nella nostra provincia per indotto infatti nella puntata precedente avevamo detto che la crisi eventuale che scongiuriamo sempre speriamo che sia lontana di lungarone fiere che tipo di problematiche potrebbe portare in provincia ma le fiere in generale tutte le fiere hanno un effetto si dice moltiplicatore sullo sviluppo della ricchezza del territorio da 1 a 10 quindi vuol dire che se noi distruggiamo una fiera che vale 10 milioni di euro sul territorio c'è un danno da 100 milioni di euro sono cifre dimostrate dall'esperienza naturalmente sono coloro che vengono a soggiornare coloro che consumano che esattamente le aziende che si fanno conoscere l'effetto poi sul commercio sulla possibilità di vendere di queste imprese perché si crea evidentemente tutta un'azione promozionale nei loro confronti per cui ci sono danni diretti e danni indiretti danni comunque anche sul territorio come si diceva appunto per la parte dei consumi gli otelli ristoranti ma anche i trasporti anche lo stesso allestimento degli stand sono le aziende locali tutte le aziende locali che lavorano non ci pensa che uno non ci pensa ma sono tantissime ovviamente poi tutti i dipendenti e tutti i paroni di queste aziende guadagnano di meno quindi consumano di meno a loro volta quindi guadagnano di meno coloro pressi quali queste persone andavano con solo consumare no per cui una catena no vi dico sempre quando c'è una crisi economica pare che colpisca solo un settore no ma siamo come dei birilli quando cadono giù i primi birilli che sono quelli più esposti poi piano piano anche gli altri rischiano la caduta e quindi il caso nostro è che con kovid noi siamo insieme col turismo fra i settori più colpiti da questa crisi perché ovviamente ci sono assemblamenti di persone i movimenti di persone viaggi immaginiamoci una fiera internazionale una fiera internazionale dove non ci sono più gli aerei e la possibilità delle persone di attraversare tranquillamente le frontiere le fiere internazionali in questo momento sono in grande difficoltà quindi le fiere grandi sono in grande difficoltà ecco a proposito di questo ho letto mi pare si parli di una perdita di 200 milioni stimata per le fiere perse fino adesso a livello nazionale credibile questa cifra assolutamente ci sono fiere in viene in mente solamente fiera vinitali se chi se qualcuno andato a vedere fiera vinitali immaginiamoci che cosa vuol dire come danno per la fiera di verona ma anche per tutto il sistema diciamo a questo punto produttivo del nord italia forse di tutta italia perché è la fiera più importante del settore di tutto il mondo no e poi nel piccolo ci sono anche nel piccolo le problematiche il totale comunque questa è una cifra assolutamente plausibile lockdown o l'isolamento la quarantena la quarantena da voi è iniziata quando da noi è cominciato veramente seriamente verso metà di marzo che vuol dire aver che vuol dire abbiamo dovuto posticipare prima di un mese perché nessuno sarebbe immaginato cosa succedeva di un mese a grimo che per una fiera importantissima per il territorio e però dopo purtroppo ci si è resi conto che questa quarantena diventava sempre più severa e che quindi non si poteva più fare in primavera agrimont che per noi è un grande danno e poi le altre poi c'era caccia e pesca che lo stesso è peccato è stata il mese dopo l'abbiamo posticipata fino a giugno ma dopo l'incertezza perché poi è l'incertezza che non riguarda solo noi ma anche le aziende che vogliono esporre e le aziende che vogliono venire a visitare le aziende che spongono per cui è una catena no allora abbiamo deciso di posticipare tutte queste fiere non di annullarle ma di posticiparle ci sono delle buone indicazioni per questa posticipazione allora noi abbiamo l'esempio anche di altre fiere piccole vicino a noi che le fiere d'autunno le aziende non hanno assolutamente rinunciato a partecipare cioè vedo che c'è dalla parte delle associazioni di categoria delle associazioni di imprese da parte anche di molti enti ma da parte proprio delle imprese c'è una voglia di rinascita molto forte e che permette che alcune imprese vicino a noi alcune aziende fieristiche vicino a noi si trovino con il tutto completo per cui noi abbiamo deciso d'accordo con le associazioni con gli enti soci della fiera per esempio di posticipare agrimont a fiera foreste al 12 13 e addirittura amplieremo le date di fiera foreste per dar spazio alle aziende agrimont perché moltissime delle aziende agrimont hanno confermato l'interesse a venire a fiera foreste a settembre fiera foreste era indipendente era autonoma aveva la sua vita noi abbiamo comprato devo dire il marchio boston nord est che è per quella fiera che c'è anche boston nord ovest peraltro boston nord ovest salta in autunno per cui noi invece teniamo porte aperte sia in fiera di longarone sia in consiglio per la presentazione perché boston sarebbe la i macchinari che si mettono in mostra però operativa che facciamo anche noi in piccolo a longarone però quando tu sei in spazi grandi come il consiglio puoi fare per esempio quest'anno sarà una cosa bellissima di questo volevo parlare dopo intanto ho visto che ha usato la terminologia porte aperte porte aperte ai visitatori ma con queste normative la misurazione della temperatura le distanze c'è qualcosa di certo noi adotteremo i parametri di sicurezza massimi che vengono richiesti dalle autorità il problema qual è cioè forse non è un problema è un vantaggio che se io guardo i parametri di un mese fa erano parametri talmente restrittivi che una fiera quasi non potevi farla oggi in effetti invece hai dei parametri molto più laschi quindi tu una fiera la puoi fare allora per esempio valuteremo se sarà necessario di avere quei macchinari che ti permettono di misurare la temperatura che ho i scanner bravissimo che permettono a una pluralità di persone mentre passano attraverso lo scanner di vedere la sua temperatura ma adesso non sono più necessari valuteremo altre forme di controllo saremo sempre un passo più sicuro di quello che ci verrà richiesto però dalle autorità pubbliche e per quanto riguarda poi all'interno si aspetta all'interno ovviamente anche all'interno ci saranno tutte queste serie di attenzioni faremo dei corridoi leggermente più larghi fra stand e li terremo separati in maniera tale che non ci sia troppa vicinanza tra le persone e anche con i visitatori avremo del personale in più che farà un servizio diciamo d'ordine per ricordare in maniera molto blanda ma ferma che bisogna tenere una certa distanza tra le persone ahimè ma è così prima di tornare a questo interessante anche per alcune proposte vengono fatte fiere ad autunno si può dire in termini monetari qual è stata la perdita ma noi sicuramente avremo una perdita possiamo anche dirlo su circa 200 mila euro perché sono perdite che sono anche abbastanza diciamo matematiche quando ti perdi tre fieri in un colpo è ovvio che devi calcolare i mancati ricavi da una parte ma certe spese che rimangono dall'altra faremo molta attenzione sulle prossime fiere perché le l'attività per esempio di promozione la possiamo fare solo nel momento in cui siamo certi che la fiera ci sarà attualmente la certezza c'è perché i numeri sono positivi sono di una forte diminuzione di covide dei contagi del del dramma che c'è stato fino ad oggi no quindi siamo ottimisti ma a questo punto siccome tutti i settori chiedono dagli interventi straordinari da parte dello stato voi avete un'associazione al quale aderite anche voi che l'associazione delle fiere italiane c'è qualcosa che si è mosso ma allora noi dobbiamo calcolare non solo la fiera di longarone la fiera di longarone una fiera piccola quindi si era piccola problemi piccoli mentre le fiere grandi hanno problemi enormi per cui noi abbiamo richiesto allo stato soprattutto allo stato ma anche abbiamo partecipato dei tavoli con la regione alcuni interventi ad oggi non è arrivata nessuna risposta ci sono gli interventi diciamo generali che sono quelli che ci sono per tutti col fatto che però le fiere sono più svantaggiate rispetto ad un settore come il turismo perché alla fine non sono state considerate con precisione e soprattutto con distinzione rispetto ad altri settori né a livello regionale né a livello statale per cui vedremo che cosa noi però siamo abituati qui a longarone noi veriti sempre a cercare di risolvere i problemi con le nostre energie ovviamente se ci fosse un intervento statale soprattutto statale noi saremmo i primi a essere felici e fortunati abbiamo la EFI che è l'associazione nazionale fiere italiane che insieme con noi sta cercando di lavorare bene io sottolineo che si potrebbe fare molto di più su brussel su questo tema qua ci sono tante cose che si possono fare su brussel anche come a livello centrale a livello statale ma anche a livello regionale su questo dovrebbero essere fatte dai nostri diciamo la nostra regione dal nostro stato delle riflessioni un attimino più approfondite ed essere più veloci certamente lei parla con cognizione di causa visto che molto si è interessato precedentemente ai bandi che ci sono ci sono delle delle azioni specifiche per esempio a meno risulta siano state ancora fatte tutte le comunicazioni né a livello regionale né a livello statale per attivare le deroghe sugli aiuti di stato che sono importantissime perché permettono agli enti pubblici di finanziare enti come i nostri senza incorrere in divieti da parte dell'unione europea quindi voglio dire sono state da parte dell'unione europea portate avanti delle soluzioni molto interessanti ma se non abbiamo abbastanza velocità sia a livello statale che regionale nell'attivare questi meccanismi alla fine chi paga chi paga sono le imprese e il territorio. Allora parliamo adesso di questa fiera e foreste c'è questa particolarità che si sposta in un luogo che non è Longarone Fiera in Consiglio. Il Consiglio è Treviso, Belluno, Friuli Venezia e Giulia. C'è la compartecipazione di tutte e tre le amministrazioni? Sì, noi abbiamo una fortissima partecipazione come è stata l'anno passato di Veneto Agricoltura che ci sta veramente vicino, sono anche i nostri soci, sono soci della fiera, sono un socio attivissimo al quale va la nostra gratitudine perché stiamo lavorando molto bene assieme. C'è anche l'assessore PAN, l'assessore all'agricoltura perché quando noi parliamo di foreste parliamo anche di agricoltura, di tutto ciò che riguarda il settore dello sviluppo rurale e quindi è molto importante l'intervento dell'assessorato dove c'è l'assessore PAN. Poi però abbiamo anche il Friuli Venezia Giulia, è una piacevolissima sorpresa per noi la regione Friuli Venezia Giulia perché la regione Friuli Venezia Giulia sul Cansiglio, cominciando forse addirittura all'11 settembre, verranno fatte delle presentazioni che per la gente comune, per i consumatori ma anche per le imprese saranno interessantissime perché verranno messe in opera macchine per esempio per costruire strade di montagna, che non è una cosa da sottovalutare tenuto conto della difficoltà e quindi avremo la possibilità di invitare le persone, faremo anche dei pulmini da Longarone per andare fino al Cansiglio in modo tale che le persone e le aziende vengano a vedere queste macchine in operatività piena e dobbiamo essere grati alla regione Friuli Venezia Giulia che è un partner eccezionale su Fiera Foreste ma anche Agrimont perché abbiamo detto poco fa Agrimont d'accordo con tutte le associazioni del territorio viene posticipata appunto a settembre. Se lei mi offre il destro per dire che noi guardiamo poco ad est, mentre potremmo avere degli alleati molto importanti, Friuli Venezia Giulia come la provincia di Belluno soffre un po' della concorrenza dei vicini che hanno… Allora io mi ricordo quando lavoravo direttamente con le istituzioni europee che dissi quando ci fu l'allargamento verso tutti i paesi dell'Europa centro orientale, i primi furono l'Ungheria e tutti gli altri, poi dopo arrivò anche la Croazia, che il Veneto non era più una regione periferica in Europa, ma era al centro dell'Europa e questa osservazione è giustissima, il Veneto è una regione centrale in Europa e deve cogliere le opportunità che arrivano da Oriente. Ma c'è un vecchio progetto di Auregio che non è più andato avanti? Beh, quello non si sente più parlare, è un gran peccato perché invece quello fra il Tirolo, su Tirolo, Alto Adige e quello di Tirolo sta andando avanti molto veloce, il nostro invece non se ne sente più parlare ed è un gran peccato. Sono progetti fondamentali perché creano quelle relazioni anche istituzionali, oltre che fra le imprese, fra la nostra, devo dire che il Ministero delle Risorse Agricole, con la dottoressa Stefani che era dirigente del settore foreste, ci ha proprio sollecitati e quest'anno purtroppo con la situazione Covid abbiamo dovuto bloccare questo, di fare un'attività insieme proprio con le autorità del settore foreste di Croazia, Slovenia, Austria, cosa che noi avevamo iniziato e bloccato, però non abbiamo bloccato la partecipazione dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea sarà presente con la Commissione Europea e il Parlamento Europea il 11, 12, 13 di settembre. E poi abbiamo dato tre date, però siccome viene agganciata anche Agrimont, forse sono pochine, lei mi diceva che c'è la possibilità di andare un po' più in là. Ma le aziende Agrimont, la gran parte ci sta confermando l'interesse a partecipare a settembre, quindi questa traslazione, questa posticipazione della fiera e le aziende Agrimont verranno abituate ad avere due fine settimana, quindi un periodo più lungo e noi come fiera che siamo a disposizione delle richieste, delle associazioni, delle imprese, noi facilmente proseguiremo il fine settimana dopo. Voi sarete anche un pochino un banco di prova per la riapertura delle fiere, perché deve essere una delle prime che si verificherà anche la risposta da parte del pubblico. Esattamente, noi siamo una delle prime fiere, siamo anche avvantaggiati perché siamo ancora in periodo abbastanza caldo e queste manifestazioni si svolgono all'aria aperta anche, per cui sappiamo che la medicina migliore contro i virus e contro i batteri che circolano è proprio l'aria aperta, quindi una fiera sana quella che noi stiamo prevedendo per settembre, anche se avremo gli stand all'interno della fiera distanziati opportunamente e il festival che sono tutti i convegni di approfondimento sul settore cambiamento climatico e il settore foreste. Insomma, ancora una volta l'ottimismo deve governare il sovrano? Sì, ma deve governare il sovrano perché noi dobbiamo essere ottimisti, guai, fermarsi. Fermarsi può essere molto peggio di un virus più pesante di Covid che per fortuna non c'è. Abbiamo isolato il tempo però questa è una notizia che volevo strapparle. Voi organizzate una mostra molto interessante che ha molto a che fare con il settore turistico che in questo momento sta pensando che cosa succederà ed è l'Oreca che è un acronimo per hotel, settore fornitura, per hotel, ristorazione, catering. I catering. Che l'anno scorso ha avuto un grande successo grazie anche alla presenza… Quindi macchinari, prodotti, modalità… Tutta la gastronomia, il food, le aziende però anche che offrono i prodotti, le attrezzature per gli hotel, le attrezzature per gli ristoranti, le arredi anche… È un mondo vastissimo. È un mondo enorme, è un mondo enorme, è un mondo che ovviamente è tutta una filiera che è stata messa in crisi da quello che è successo, però noi siamo anche una fiera piccola che offre anche delle condizioni di favore alle imprese. L'Oreca la facciamo partire appena le imprese ci daranno il loro accordo. Abbiamo già sentito che c'è molto interesse sul fare questa fiera, però c'è anche interesse perché ricordiamoci c'è Dolomiti Show, quella che noi facciamo insieme con Regione Veneto che arrivano i buyers da tutto il mondo per vedere di comprare i prodotti turistici della nostra regione. Saranno concomitanti anche questi? Ah sì, saranno concomitanti, sono l'11-12 di ottobre. Quindi un mese dopo la… Un mese dopo quella. Poi subito dopo c'è Redamont dove abbiamo la conferma di quasi tutte le imprese, quindi le imprese non hanno paura, vedo, vogliono reagire, vogliono partecipare. Sarà dal 31 di ottobre fino all'8 di novembre e poi abbiamo MIG, la regina, dal 29 di novembre fino al 2 di dicembre. L'unica difficoltà è la partecipazione estera se ci saranno vincoli alle frontiere, ma noi speriamo che anche questo venga superato. Non è in bocca al lupo per l'attività che sia… Creti sempre. Che inizi benissimo a settembre, l'invito naturalmente a tutti noi di appoggiare queste iniziative, soprattutto sulla valutazione dell'importanza che ha una mostra di questo tipo per l'economia del nostro territorio. Buon lavoro Bellati. Grazie. A lei e ai suoi collaboratori, grazie a voi per averci seguito, buona serata. Grazie.